Prosegue la caccia all'affare per le squadre pugliesi. Il calciomercato continua a tenere banco tra i club pronti a disputare il prossimo campionato dalla Serie B all'eccellenza, con le preparazioni atletiche ancora da completare e gli organici che hanno bisogno degli ultimi ritocchi. Il Lecce si appresta a disputare la Serie B 2021 e lo farà anche con l'innesto di Luca Paganini. L'esterno classe 93 lascia il Frosinone, club in cui ha militato per tutta la sua carriera, per sposare quindi il progetto giallorosso, oggi in programma alle visite mediche, con l'annuncio ufficiale dei Salentini già diramato nel pomeriggio di lunedì. Affare addirittura d'arrivo per il Monopoli, che per il prossimo giro NEC di Serie C sta pensando a due nomi di assoluta garanzia. Per l'attacco si guarda Rashid Armah, reduce dalla promozione in Serie B con la maglia del Vicenza, mentre per il centrocampo si pensa a Manuel Nicoletti del Catanzaro. Possibile anche un arrivo under per la porta. Giacomo Pozzer, 19enne scuola Inter, potrebbe essere un nome caldo in caso di addio di Antonino o Menegatti. Portiere che la Virtus Francavilla ha appena annunciato. Crispino vestirà il bianco celeste. Ancora ferme invece Bari e Foggia. In Serie D il Casarano apre la settimana con due under. Dancona e Galfano, entrambi classe 2003, sono già in ritiro a rivisondoli agli ordini di Vincenzo Feola. Molto attiva anche la Fidelisandria con cinque nomi nel giro di 24 ore. Petrarca, Riggio e Venturini, i primi tre nomi del lunedì, a cui fanno seguito De Santis e il classe 2002 Tutino. Il Taranto invece si appresta a chiudere per De Marco e Caldore, in attesa di ripiombare su un bomber di categoria. Si muove anche il Brindisi con l'arrivo di Miruku per gli esterni, mentre il Nardò piazza una riconferma importante in vista del prossimo anno. Mengoli vestirà ancora la maglia granata, dopo gli Eurogoal messi assegnano la scorsa stagione. In eccellenza spiccano le manovre di Martina e Gallipoli. I biancazzurri chiudono l'affare Ardino per gli esterni. In arrivo in casa giallorossa c'è il difensore under Ruben Semola. Movimento di rilievo anche per Lucci Biceglie, che ufficializza l'arrivo in azzurro di Gretano Zingrido dal bar all'estero. Grazie. Grazie.